Un libro tira l'altro di Salvatore Carruba Siamo in tipi diversi, in qualità differenti, in molte varianti, spesso anche con punti di ricercatezza che vanno a riscoprire antiche tipologie. Insomma, anche il pane è un universo sul quale indaga un esperto, Luigi Cattivelli, che è il direttore del centro di ricerca genomica e bioinformatica del CREA, nonché rappresentante dell'Italia nel Research Committee di Weat Initiative, l'agenzia internazionale per il coordinamento della ricerca sul frumento, che ha scritto Pane, nostro, grani antichi, farine e altre bugie. È pubblicato dal Mulino, 150 pagine, 13 euro. Questo è un libro che si rivolge a tutti per metterci nella condizione di conoscere ogni aspetto relativo al pane e a tutte le nuove mode alimentari che lo riguardano, spesso alimentate da un marketing sapiente che talvolta punta anche a penalizzare il grano rispetto ad altre farine ottenute da altre specie alimentari che avrebbero diversi e migliori benefici nutrizionali. Cattivelli ci spiega tutto, non trascura già nel sottotitolo la grande infatuazione per i grani antichi e ci mette nelle condizioni di riaccostarci serenamente a questo alimento primordiale, affrontando vari aspetti di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Luigi Cattivelli. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Luigi Cattivelli, partiamo da un tema al quale accenna già nel sottotitolo, la famosa questione dei grani, dei frumenti antichi. Lei relativizza abbastanza la differenza tra i frumenti antichi e i frumenti moderni e poi confessa nelle prime pagine del libro che ogni volta che vede la dicitura frumenti antichi nel menù di un ristorante avrebbe voglia di fare tante domande al ristoratore. Quali in particolare? La prima domanda che mi verrebbe di fare è capire se il ristoratore è veramente consapevole di quello che scrive. Molte delle attributi che ne diamo ai frumenti antichi non sono reali, non hanno una sostanza scientifica dietro. Vorrei anche precisare che io non sono contrario ai frumenti antichi a prescindere. I frumenti antichi sono un patrimonio culturale dell'agricoltura. Vanno mantenuti, vanno anche coltivati. Forse anche in alcuni ambiti sono la soluzione a un'agricoltura in un ambiente difficile. Però è improprio attribuire ai frumenti antichi una clamorosa caratteristica nutrizionali che in realtà non hanno e soprattutto bisogna essere consapevoli del fatto che se noi coltivassimo solo frumenti antichi non avremmo da mangiare. Infatti lei insiste poi più avanti nel libro proprio su questo aspetto, cioè sul fatto che intorno alla storia dei frumenti antichi si coltivino in realtà molte fake news, non soltanto in questo campo, ma insomma è un tema che si presta. Si presta perché la parola antica viene abbinata al concetto di buono, nutriente, di salutare, cosa che in realtà non è necessariamente vero e nel caso dei frumenti non è che sono, chiaramente non sono negativi dal punto di vista nutrizionale, però non hanno quelle caratteristiche nutrizionali che molto spesso vengono vantate. Lei ha accenato poco fa la questione della disponibilità, del fatto cioè di quanto frumento produciamo in Italia soprattutto, in particolare appunto il fatto che il frumento antico non sarebbe certo in grado di poter assicurare la produzione attuale che è già una produzione che non basta per il consumo nazionale diciamo, per produrre anche tutti gli altri prodotti che servono a partire dalla pasta. E qui lei a un certo punto scrive che l'associazione tra prodotto importato, il frumento importato e l'elevata qualità non è necessariamente sempre vera. Ci possiamo fidare quindi del frumento di importazione? Io penso che tutti i paesi dell'Unione Europea hanno criteri dal punto di vista qualitativo e dalla sicurezza alimentare altissimi, quindi un prodotto commercializzato in Europa è certamente un prodotto salutare e che in dia di massimo non ha problemi. Al netto delle frodi, guardate le frodi capitano su qualunque sia i prodotti in qualsiasi campo, quindi non è un problema dal punto di vista della qualità o dal punto di vista della salubrità dei prodotti, dobbiamo capire un attimino se quanto vogliamo essere autonomi o nel termine di produzione. Secondo me esiste un problema globale, soprattutto a livello nazionale, il paese importa a larga parte del frumento che utilizza e noi adesso il caso più rilevante, più clamoroso a mio avviso è il caso del frumento tenero, che è il frumento che serve per fare la farina, per fare il pane, per fare la pizza, per fare i dolci. L'Italia importa il 60% del frumento tenero che usa prevalentemente per il consumo interno e questo nonostante noi coltiviamo frumenti moderni, storniamo ancora all'idea di un frumento antico che produce almeno la metà di quello dei frumenti moderni, se noi convertissimo domani la ricoltura italiana di frumento tenero in frumento tenero antico, il paese produrrebbe meno del 20% del proprio fabbisogno. E a proposito di qualità, lei scrive che il semplice grano di una volta è diventato, sotto la spinta del miglioramento genetico e dell'industria alimentare, un prodotto sofisticato, quindi un processo di grande trasformazione che riguarda anche la produzione agricola. È un prodotto che è dedicato agli diversi utilizzi della farina. Quando noi andiamo a comprare una farina al supermercato, banalmente non vediamo farine basta, vediamo farina per pizza, farina per dolci, sono tipi diversi di farine a cui corrispondono tipi diversi di grano. E questo è l'esigenza del consumatore moderno, di avere un pane soffice, una pizza che lievita bene, un panettone ultra lievitato, per quale questi prodotti servono farine apposite? E queste farine apposite sono tenute da frumenti che sono selezionati per questo scopo. Ma la stessa principale è nella pasta. Noi diamo la pasta al dente, ma la pasta al dente ha certe caratteristiche, cominciando dal fatto che una pasta al dente tipicamente ha un elevato contenuto di proteine. Queste proteine devono essere presenti nel seme del frumento, non vengono aggiunte posteriori. Allora, se noi abbiamo un prodotto alimentare con delle specifiche particolari, è ovvio che chi produce materie prime per fare questi prodotti deve adeguare la produzione e le esigenze dell'industria, ma di fatto le esigenze del consumatore. Un altro tema che lei solleva e che è molto popolare, sul quale c'è una grande sensibilità da parte dell'opinione pubblica ormai, è quello della celiachia. Lei qui invita a essere prudenti, a essere non apocalittici su questa questione. La celiachia è una malattia, è una malattia molto seria. Una persona che è celiaca non deve mangiare glutine, non deve mangiare frumento, punto. Non c'è nessun dubbio su questo. Una situazione diversa può essere le persone che hanno una sensibilità al glutine non celiaca, che è una tipologia diversa di malattia. In questo caso può essere conveniente testare glutine diversi o ridurre il consumo di glutine. Però guardate, queste sono patologie, sono situazioni limitate al 2-3% della popolazione. Quindi per chi non ha una patologia, il frumento va benissimo. E patologie alimentari ne abbiamo per tutto. Abbiamo la solito tolleranza al lattosio, all'albumina dell'uovo, al pomodoro, al kiwi. Abbiamo tantissime allergie alimentari e ci sono anche quelle sul frumento. Semplicemente perché queste capitano e vengono sviluppate nel corso della vita a fronte di tantissimi stimoli esterni. Come impatterà il cambiamento climatico sulla produzione del frumento? Il cambiamento climatico impatta sulla intera agricoltura. Il cambiamento climatico significa avere più caldo, soprattutto più caldo d'inverno, ma anche più caldo d'estate. Significa avere queste ondate di calore che sono tipiche degli ultimi anni. E in molti casi queste ondate di calore sono abbinate a una carenza idrica. Quindi è chiaro che se noi vogliamo continuare a produrre domani, dobbiamo adattare le piante al futuro. Non è pensabile di usare domani una pianta selezionata ieri quando il clima era più freddo. Tutte le piante che coltiviamo sono sempre adatte al clima della zona in cui vengono coltivate. Se il clima cambia, dobbiamo cambiare le piante. Questa è un'esigenza assoluta del mondo agricolo. E questo introduce il tema sul quale lei insiste, soprattutto nella seconda parte del libro, cioè quello della ricerca, dell'innovazione, che spesso invece è vista con preoccupazione, da molti agricoltori anche. E non so quanti sono agricoltori che vedono con preoccupazione. Tenete presente che quando andiamo di fronte a situazioni drammatiche come quelle che è venuta quest'anno, nel caso della siccità in Sicilia, ad esempio, o altre situazioni in cui è molto evidente, si tocca con mano l'impatto del cambiamento climatico, dobbiamo farsi una domanda se è meglio non produrre nulla oppure sviluppare piante resistenti. Guardate che la situazione che abbiamo avuto in Sicilia quest'anno è di dare in larga parte dell'isola di zero produzione. E allora per avviare questa politica di sensibilizzazione, che cosa si può fare? Come si può intervenire anche sull'opinione pubblica perché accetti con maggiore serenità questa prospettiva anche delle coltivazioni innovative, moderne, flageniche? L'opinione pubblica deve essere anche consapevole del fatto che l'agricoltura è un'innovazione da sempre. L'idea di mangiare qualcosa come natura crea non ha riscontro nella realtà. Come natura crea è un famoso slogan pubblicitario che però non esiste nel reale perché qualunque pianta l'uomo coltivi da 10.000 anni a questa parte è una pianta che è stata modificata, è stata selezionata per essere idonea alla coltivazione. E concludo con una battuta, in natura non c'è nessuna pianta che si evolve per farsi mangiare da qualcun altro. Così anche i frumenti, quelli selvatici che pure oggi esistono, non sono evoluti per farsi raccogliere da un uomo. Tant'è che in natura tutte le piante selvatiche disperdono i semi al momento in cui sono mature. Non aspettano uno con la falce che viene a raccogliere la pianta. Tutto questo è qualcosa che l'opinione pubblica deve cominciare a capire e deve rendersi conto che l'agricoltura che abbiamo oggi e che avevamo anche 100 anni fa è comunque un'agricoltura innovativa rispetto a quello che era in precedenza. E non potrà che essere così anche in futuro. Grazie a Luigi Cattivelli, autore di Pane Nostro. Buona serata. Grazie a voi. E a questo punto... Il confettino. Siamo ormai in periodo di riapertura delle scuole. Allora segnalo un paio di titoli. Per i piccoli piccoli le edizioni L propongono Una scuola nel bosco di Giuditta Campello illustrata da Arianna Cicciò. 32 pagine, 13,90 euro. Dove troviamo l'entusiasmo di Cincia, Riccio, Leppe e Scoiattolo che incantati dalla scoperta in città della scuola ne fondono una nel bosco. È un libro da leggere con i bambini da tre anni in su. Poi c'è, per chi invece già sa leggere, inizia la scuola. Leggo una storia in cinque minuti di Giuditta Campello. Ancora illustrata da Francesco Zito che presenta una serie di racconti, di brevissimi racconti che si possono leggere appunto in cinque minuti per abituare i più piccoli, già lettori, a muoversi autonomamente nel mondo dei libri. Questo è pubblicato da M. Edizioni, 112 pagine, 15,90 euro. E infine, Orecchio Cerbo propone di Hélène Lasser e Gilles Bonoteau, compagni di lavoro e nella vita, in perfetta simbiosi, tanto che è difficile distinguere il rispettivo contributo ai libri che scrivono, autori di Vicini di Banco, tradotto da Paolo Cesari, 32 pagine e 15 euro. Si ricomincia qui anche nella scuola frequentata dai piccoli panda, assieme ai tanti altri animali antropizzati che popolano il libro. E la riapertura delle scuole è l'occasione per un confronto tra panda nonna e panda nipote. Per mettere a confronto la scuola di allora e quella di oggi e scoprire alla fine che, nonostante tutte le innovazioni e le nuove mode, in fondo poco è cambiato nell'atteggiamento verso la scuola, soprattutto nel desiderio di fare festa, quando si pone la consapevolezza che proprio la scuola comunque ci sta aprendo alla vita. Un libro tira l'altro Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Avendo parlato di pane non possiamo non parlare di vino considerato però dalle zone del mondo dove non lo si può bere. Compito al quale si è dedicato allo scrittore inglese Lawrence Osborne, autore di Santi e Bevitori, un viaggio alcolico in terre a stemi. È pubblicato da Delfi, 202 pagine, 19 euro, tradotto da Maria Grazia Gini. Si parte da un'estate torrida a Milano, non quest'ultima appena trascorsa, dove lo scrittore cerca non solo refrigerio, visto che è umano e bere un piacere, in un gin tonica regola d'arte nel bar di un lussuoso albergo in galleria che affascina l'autore. Osservando i facoltosi ospiti musulmani necessariamente a stemi, Osborne comincia a ragionare che probabilmente scrive proprio le molecole d'alcol in circolo nel sangue giorno dopo giorno, notte dopo notte, con effetti al limite dell'impercettibile, fanno sentire l'occidentale libero, senza catene e superbo all'ennesima potenza. E da questa considerazione nasce il libro che rievoca le esperienze di un robusto e convinto bevitore e non tanto di vino quanto di superalcolici nelle plaghe dove l'alcol non è autorizzato. Si comincia a fare la verità da Beirut, dove bere è possibile e da dove Osborne inizia l'itinerario che ha progettato per bere nel mondo islamico perché, spiega, curioso di vedere come vivono i non bevitori. Insomma, il libro si presenta come una cronaca di viaggio finalizzato all'unico obiettivo di trovare alcol, non meno che come una sorta di manuale di filosofia del bere. Due aspetti che si intrecceranno e che porteranno per esempio l'autore a definire Dubai come un cocktail che non ha mai trovato noioso, una realtà quasi unica, ben diversa dalla condizione sperimentata mascate in Oman dove lo scrittore e la fidanzata saranno costretti a tradire la tradizione di uno champagne ghiacciato alla mezzanotte di Capodanno e accontentarsi del succo di anguria. E sentiamo dalle righe di Osborne come descrive questa esperienza. Un'altra volta bionda la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar Che l'alcol sia concesso è l'aspetto più sorprendente di questo minuscolo regno. Dettata da motivi economici si tratta pur sempre di una concessione dal punto di vista religioso gli emirati sono un paese conservatore e l'identità è servita solo che non ci piace. È stata audace la decisione dei Maktum la dinastia regnante di permettere l'alcol in tutto l'emirato ha reso la città più occidentale più tollerante più indistinguibile dalle città occidentali e l'obiettivo era proprio questo da qui l'accusa di mancare d'anima ed identità obbligato nel libro di Osborne è riferimento al bar Windsor del Cairo il bar preferito dallo scrittore nel Mediorente creato dagli inglesi e illustrato dall'irruzione di Lawrence d'Arabia dopo che aveva conquistato Acaba della sua impresa culminata nell'aiuto che Lawrence fornì agli arabi nella conquista di Damasco Thomas Edward Lawrence era stato un geniale gestore comunicatore lasciandone una traccia celeberrima nei Sette Pilastri della Saggezza un copolavoro di letteratura di storia militare di diplomazia pubblicato nel 1935 ora esce in Italia la prima traduzione di una bozza originaria dell'opera tratta da un manoscritto custodito nell'Università del Texas si tratta della rivolta araba tradotta e curata da Fabrizio Bagatti 136 pagine illustrate 18 euro dopo la sua impresa in Mediorente Lawrence era tornato al suo lavoro di archeologo deluso della piega che avevano preso gli eventi e proprio questo lo avrebbe spinto poi a scrivere il suo capolavoro per rimettere ordine nelle diverse interpretazioni di quegli eventi Bagatti ci presenta dunque l'origine dell'opera cioè questo testo che sarebbe stata la riscrittura di alcuni articoli precedentemente pubblicati e poi ulteriormente manipolata per essere pubblicata intorno al 1925 Lawrence in particolare in questi rifacimenti aveva molto studiato l'aspetto letterario al quale teneva molto nello scrivere il suo capolavoro sentiamo questa testimonianza di uno scontro con i turchi avvenuto nel luglio del 1917 caratterizzato dalla carica dei cammelli ero arrivato tra i primi e stavo sparando naturalmente con una pistola perché solo un cavaliere esperto può usare un fucile al galoppo quando all'improvviso il mio cammello inciampò e cadde di schianto a terra in avanti come se fosse stato colpito da un palo venne strappato completamente dalla sella volai in aria per una distanza considerevole e atterrai con uno schianto che sembrò togliermi del tutto la vista e i sensi rimasi lì inerte in attesa che i turchi mi uccidessero continuando a recitare i versi di una poesia mezzo dimenticata il cui ritmo di qualcosa forse la lunga falcata del cammello mi aveva riportato alla mente mentre scendevamo giù dal fianco della collina e allo stesso tempo un'altra parte della mia mente pensava a come sarei rimasto povera cosa schiacciata quando quella cataratta di uomini vivi e cammelli si fosse riversata su di me tuttavia dopo molto tempo terminai la poesia e nessun turco venne verso di me e nessun cammello mi calpestò sembrò che dalle orecchie mi fosse tolto un velo e ci fosse un grande rumore davanti allora mi alzai e vidi la battaglia finita i nostri uomini che si riunivano e caricavano gli ultimi resti del nemico dietro di me c'era il corpo del cammello adagiato lì come una roccia che aveva diviso la carica in due correnti naturalmente naturalmente il riferimento a lawrence non può mancare nel libro di uno dei maggiori politologi americani robert kaplan il grande medio oriente viaggio al centro della storia tra impero e anarchia pubblicato da marsilio 24 euro tradotto da nausica angelotti e daniela marina rossi è un libro questo attualissimo ovviamente la luce dei drammi in corso nel medio oriente nel quale kaplan vuole esplorare più a fondo quest'aspra geografia nella quale avverte si gioca il futuro dell'equilibrio tra le grandi potenze alle quali si è giunta ora una molto intraprendente cina di questo mondo kaplan ci fa la storia senza la quale non è possibile capire il presente e qui il riferimento a lawrence che divenne scrive l'autore una sorta di deuses macchina capace di agevolare la vittoria militare dei britannici sugli ottomani in arabia le cui conseguenze si tradussero per il regno unito in una relazione epica e complicata con gli arabi che vivevano più a nord ovvero in siria e mesopotamia un rapporto a tratti romantico a tratti tragico e politicamente tormentato capace di incendiare il dibattito intellettuale ancora oggi questo libro è il frutto di studi non meno che di frequentazioni dirette dei vari paesi e di incontri con alcuni protagonisti allo scopo anche di far risaltare come nel caso dell'iran quanto il passato anche remoto condizioni il presente e il futuro possibile del Medio Oriente che Kaplan cerca di immaginare nelle ultime pagine e immaginare è la parola appunto che usa l'autore per poter affrontare i misteri del futuro insieme alla storia e alle scienze politiche un altro libro di quasi cent'anni fa che ci ripropone temi e drammi con i quali facciamo ancora i conti e che ruotano intorno al Medio Oriente è quello di uno dei più famosi giornalisti francesi Albert Londres morto nel 1932 famoso autore di reportage dal Medio Oriente dalla Russia e dall'Asia il libro di Londres che vi presento si chiama L'ebreo errante è arrivato pubblicato all'Indau 240 pagine 18,50 euro ed è tradotto da Pierfranco Mincenti che parte da una tragica realtà che speravamo avere debellato quella della persecuzione e intolleranza nei confronti degli ebrei che invece ha ripreso a manifestarsi in tante città della civilissima o sedicente tale Europa ma anche di un riferimento altrettanto attuale a quello del massacro degli ebrei avvenuto nell'ottobre del 1929 in Palestina che l'autore aveva previsto dopo una lunga inchiesta condotta in tutta Europa sulle condizioni degli ebrei qui troviamo quelle cronoche con la disarmante constatazione della dura realtà di persecuzione nei confronti degli ebrei che fece loro maturare la speranza di poter abbandonare l'Europa per insediarsi in Palestina infatti la terra promessa è la poesia che era stata trovata tra le carte di Londra e che conclude questo libro qui Londra richiama il doppio dramma della stirpe ebraica quello che si svolge nell'Europa orientale dove si manifestavano le peggiori forme di persecuzione contro gli ebrei e il secondo in Palestina dramma della miseria il prima lo definisce e dell'idealismo il secondo un dramma che cerca di fare capire per cogliere la natura e le origini del sionismo che egli considera con realismo ricordando che in Palestina non ci sarebbe posto per tutti gli ebrei e concludendo con una nota di sano realismo e di possibile ottimismo contenuto in queste righe gli ebrei hanno mancato di psicologia e senso della misura se le altre nazioni non avevano pensato che il paese era già abitato da arabi loro invece avrebbero dovuto tenerne conto adesso lo sanno hanno pagato la loro scoperta e credo che siano pronti a sostituire il periodo dell'orgogliosa conquista con quello della collaborazione anche gli arabi saranno pronti a farlo per il momento la loro risposta è no ma in oriente no non ha lo stesso valore che in occidente in certi paesi dopo un no si può ugualmente continuare la conversazione ma è indispensabile che non si discuta con il pugnale in mano e uno degli elementi che ha contribuito a mantenere e a difendere l'identità del popolo ebraico è la lingua sulla quale la Löwenthal narratrice studiosa di letteratura ebraica pubblica breve storia d'amore tra parentesi dell'ebraismo pubblicato da Einaudi 118 pagine 12 euro l'ebraico spiega subito all'autrice prima di tutto un'identità che è diversa il suo libro non vuole insegnarlo né illustrarne la storia è un viaggio aggiunge nelle parole nei suoni nei sensi nelle suggestioni ricordando sempre che l'ebraico è la lingua della Bibbia ma è anche una lingua ancora viva anzi vivissima che non è mai stata una lingua morta e sentiamo dal libro di Eleonor Leventhal l'importanza politica dell'adozione dell'ebraico come lingua del nuovo stato di Israele che Leventhal opportunamente ricorda essere stato ratificato dalle stesse Nazioni Unite il sionismo è arrivato a stabilire che l'ebraico sarebbe stata la lingua prima dell'ancora soltanto sognato stato di Israele dopo un lungo e travagliato dibattito vera infatti tra i fondatori del movimento e gli esponenti che si ritrovavano periodicamente ai congressi sionistici chi propugnava lo yiddish chi altre soluzioni che non contemplassero la reviviscenza di una lingua mai morta certo ma rimasta totalmente sconnessa dalla realtà per millenni alla fine però l'ebraico l'ebbe vinta e fu sancito che questa sarebbe stata la lingua nazionale del risorgimento ebraico della fine di millenni di emarginazione sudditanza persecuzioni cacciate da nazione teologica e con questo ringrazio il guido scotto in redazione Roberta Fisani e regia vi ricordo il nostro indirizzo di posto elettronico il libro a chioccio la 224.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima e vi do appuntamento a domenica prossima Grazie a tutti.